Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lufo. E allora, e andiamo ragazzi. A Neri c'è l'area di contestazione, entrambe le formazioni incendono in campo con le divise di riserva. I Rimini per una scelta dettata da parte della tifoseria più accesa, i Fano come formazione ospite. Da Fano circa 180 tifosi Granata giunti al Neri, entrati in campo anche con le ragazze del calcio femminile facente parte dell'orbita bianco-rossa. Per il Rimini, quarto tecnico in stagione che si attena sulla panchina bianco-rossa, si tratta di Mario Petrone, ex trainer del San Marino. Per il Fano, in panchina si presenta Brini, che ha preso il posto mai da un paio di settimane del giovane Epifani. La partita al dodicesimo dal corner di Candido, Ferrania all'occasionissima per sbroccare il match, il cittadino difensivo di Piatto scheggia la traversa andando vicino al quarto centro in stagione. A disassettesimo si ripete lo schema con gli stessi protagonisti, ma questa volta Ferrania di testa non in quadro in bersaglio. A vittisenissimo il Rimini va vicinissimo alla marcatura. Candido dall'angolo tira direttamente in porta. Sar spedisce il pallone sulla testa di Marchetti che appoggia debolmente la sfera, permettendo a Celi di eseguire un salvataggio in estremis sulla linea di porta. Ad inizio ripresa, Candido direttamente a calcio piazzato mette al lato di un nulla. A cinquantasettesimo arriva la prima occasione per il Fano, Liviero mette in mezzo, Ferrante domestica la sfera riuscendo a girarsi, ma Scotti risponde presente. A sessantacinquesimo Candido di testa appoggia per Alimi, la cui conclusione si perde alta. Minuto 72, Montanari questa volta fa da sponda per Volpe, l'ex forse non è il tempo di girarsi e con un bolide chiama la grande parata Sar, per lui Reprei meritato. A sessantacinquesimo dalla distanza si prova anche Candido senza trovare fortuna. All'ottantaduesimo si comprende la sterilità del Fano in questa stagione, grazie a questa conclusione sbilenca di Mancini. Termina qui una gara che a punti avrebbe meritato di vincere il Rimini. Il Fano attendista ultimo in classifica mercoledì sera recupererà la gara con la Fermana. In caso di vittoria scavalcherebbe proprio i biancorossi. Rimini che è se tra i fischi del pubblico amico. Il migliore, Candido, su ai tiri più pericolosi del match, dalla banderina crea almeno tre palle gol. Da calcio piazzato sfiora la marcatura, ma con Palma, caro Petrone, aumentando la qualità tecnica, qualcosa in più si poteva rischiare. Per il Fano, il portiere Sar farà tutto e laddove non arriva lui ci pensano i compagni a salvare la propria porta.